buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video buonasera a tutti amici benvenuti in questo nuovo video in questo video vi farò vedere la tronca rami della oleomac che di lissino stava 100 108 euro scontata l'ho presa 89 euro 90 preferisco sempre arrotondare 90 devo dire che la scelta di una tronca rami è nata dal per lavoro che stavo facendo al campo volo e visto che opera in un fossato dove si respira soprattutto quando si usa la motosega si respirano i gas di scarico ho preferito prendere questa tronca rami uno per non far rumore due appunto per questo fatto di non intossicarmi di emissioni inquinanti e devo dire che ho preferito questa dalla oleomac ce ne erano altre commerciali e ho voluto puntare su questo prodotto della oleomac la tronca rami tr 80 m che della serie professionale ha un'apertura di taglio di 45 mm i manici sono a sessione ovale in alluminio le manopole sono antiscivolo e la sessione a s e quella della lama è fatta in acciaio forgiato con alluminio battuto a caldo e devo dire che questo aiuta a lavorare molto bene senza contraccolpi e senza un cranky comunque devo dire che per il lavoro in cui l'ho usata va abbastanza bene ed adatta anche alla potatura pesa più o meno un chilo pesa po queste avervi spiegato le caratteristiche tecniche ve la farò vedere al lavoro buona visione per il livello ok questo è grosso non ciò 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 Ok Sì Era un po' d'ostarello Sì 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 no 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 Sì No Ok grazie per aver guardato questo video E vi rimando ai prossimi video Un buon proseguimento a tutti